ciao allora oggi vi mostro l'ultima serie di anelli che ho preso da wish come sempre tutti quanti a un euro perché come sempre io vedi i prodotti li metto nella lista desideri aspetto un pochino una settimana al massimo vanno in promozione e quindi vanno gratuiti e pago solo la spedizione che è un euro e quindi tutti a un euro dunque direi che per adesso questo è l'ultima giro mi sono arrivati tutti e visto quelli che ho per un pochino non ne prendo altri e adesso vi mostro tengo la luce sparata addosso perché così si vede un pochino di più come brillano questo è uno di quelli che se dovessi rivederlo dalla foto era molto bellino alla fine non è un granché dovrebbe essere una volpacchiotta eccola qui però è battuta male cioè non si capisce tanto bene che cos'è e anche il materiale è molto delicato però l'idea di volpacchiotta un pochino c'è dai è carina è carina poi consideriamo comunque un euro cioè neanche un caffè in alcuni bar poi altro che vi mostro no comment e aspettate che se no mette a fuoco questo ok questo con un gattino facciamo così eccolo qua al gattino ed è quasi opaco e di là c'è la codina quindi fa il giro intorno e di là c'è la codina questo è carinissimo me lo mostro sempre sul dito che non dovrei metterlo comunque sia questo è carinissimo poi regolabile ed è anche abbastanza resistente no questo c'è quando l'ho visto detto vabbè questo è carino mi piace che abbia il giro intorno e la coda di là questo è carinissimo poi siamo un po' in tema animali questo giro perché altro gattino questo caso in oro rosa tengo le luci sparate perché così si vedono un attimo ed è come sbriluccica eccolo qui con tutta la testa con i diamantini i diamantini brillantini e poi di là c'è un puntino per chiuderlo che è più che un puntino sarebbe un cuoricino ma talmente stilizzato talmente tanto stilizzato che sembra un brillantino comunque anche questo è carinissimo non so se spegnere la luce facciamo che teniamo la luce che oltretutto adesso non si accende neanche più ok e ce l'abbiamo fatta e anche questo è carinissimo e anche questo è bello resistente poi gli ultimi due è lo stesso ma in due colori differenti quindi uno in color oro e l'altro color argento ed è sempre questo perché per me è il simbolo classico la zampa da una parte e il cuore dall'altra questo è stupendo e poi sono due molto semplice ma è un simbolo che io adoro quindi e poi è bellino poi si può mettere in base all'outfit si può scegliere quello color argento quello color oro e poi comunque tutti e due a un euro vuol dire 50 centesimi l'uno quindi è come e questi per il momento erano tutti e adesso giro la telecamera allora eccoci dunque li avete visti tutti ve li ho fatti vedere tutti quanti e così erano 3-4 mash comunque si ho iniziato a prenderli verso maggio giugno luglio e stanno arrivando adesso quindi comunque sia non bisogna avere fretta ma comunque tranne quello con la volpacchiotta a me piacciono davvero tutti sono carini e poi lo può cioè secondo me possono anche durare certo non teniamoli quando facciamo la doccia magari o quando laviamo con i detersivi però comunque mi sembrano abbastanza resistenti vi saprò dire se avete i trucchi fatemelo sapere e se vi interessa come posso creare un contenitore per riporli perché a questo punto sono tanti fatemelo sapere che magari lo facciamo assieme perché no se con questo video vi ho tenuto un pochino di compagnia e poi fatemi sapere se qualcuno di questi vi piace e fatelo sapere con un commento qui sotto e mi raccomando anche se vi è piaciuto il video di mettermi un like e di iscrivervi al canale così non perderete i posti di video e di cliccare sulla campanella così riceverete una comoda notifica ogni volta che ne carico uno e alla prossima ciao